E' evidente che ogni pensiero, dubbio o riflessione non in linea col pensiero unico vigente è classificato ed etichettato in maniera volutamente offensiva e denigratoria come complottista. Questo atteggiamento arrogante e disonesto a dire il vero è motivato al fine di screditare a priori l'interlocutore senza neppure entrare nel merito delle argomentazioni anche quando esse sono supportate da evidenze incontestabili. Come cristiani conosciamo attraverso le pagine dell'Apocalisse di Giovanni eventi che hanno avuto la loro manifestazione attraverso la storia, hanno avuto il loro compimento nei secoli ma ancor di più che confluiranno in un unico potere mondiale finale governato dalla bestia e supportato dal falso profeta che ad essa darà sostegno e appoggio ma che al tempo stesso verrà con essa annientata miseramente perché il destino della storia è nella mano di Cristo. Quindi non si tratta di essere complottisti ma di credere o meno alla Sacra Bibbia. Per questa ragione il cristiano ritiene di essere un realista e sebbene li sfulgano alcuni particolari escatologici è conscio tuttavia del periodo che sta vivendo, un periodo unico. Con rinnovata fiducia verso il nostro Dio e il nostro Signore riconosciamo che le sue parole si adempiono sotto i nostri occhi così come gli scritti ispirati dei suoi apostoli. Fiduciosi pertanto nel suo prossimo intervento, nella sua gloriosa venuta, non desistiamo dall'annunziare il Vangelo proclamando l'unico nome per mezzo del quale possiamo essere salvati, Gesù Cristo. Rinfrancati dal suo spirito di amore e di fortezza proseguiamo il nostro cammino nella fiduciosa attesa che si compia la beata speranza, ovvero il ritorno del nostro Signore Gesù per mettere fine alla malvagità una volta e per sempre e instaurare il suo regno eterno che non avrà mai fine.